ben tornati signori su fifa 19 oggi come vi sto dicendo da un paio di giorni a questa parte c'è un evento incredibile ragazzi siamo solamente in 55 al mondo a farlo io faccio parte di questo assieme a justron signori che nel suo canale è uscito il suo video però il mio è un video un po' diverso perché oggi alle 21 sul mio canale twitch sceglieremo assieme il team of the year ragazzi il team of the year vi faccio vedere qua c'è la lavagna ok e qua ci sono tutti i candidati al team of the year signori vi spiego adesso subito come funzionerà adesso vi faccio un esempio no prendo lui ok prendo le bandoschi e lo metto qua quindi questa è quello che faremo stasera in live però mi spiego meglio visto che comunque ci sono tanti centrocampisti ad esempio tanti attaccanti io qua sul mio fifa ho già fatto la mia rosa ok ho già fatto la mia rosa dove io ho fatto i miei 11 candidati in base all'anno scorso quindi team of the year 2018 non 2019 ragazzi quindi occhio perché il ronaldo della juve non c'è c'è il ronaldo del real madrid dell'anno scorso quindi in base a quello che ha fatto l'anno scorso ronaldo quindi signori mi raccomando io farò delle estrazioni stroppul su twitch in live in diretta dove tutti noi assieme sceglieremo il portiere difensore il centrocampista e i centrocampisti e gli attaccanti chiaro in base a quello che ha fatto l'anno scorso ovviamente ha vinto come ha giocato eccetera quindi vi voglio tutti presenti alle vetture saremo io ron e zano credo quindi ci divertiremo durerà un'oretta questa cosa e noi presenteremo il nostro team electronic arts sperando di riuscire a beccarli tutti insomma io sono paio di idee in test ragazzi quindi spero ora io non mi resta che farvi vedere la mia rosa ragazzi perché per il momento io ho più di annunciarvi che alle 21 ci sarà questo grandissimo evento e dirvi di mettere il promemoria la sveglia non saprei cos'altro fare quindi ragazzi ora io vi faccio vedere la mia rosa ragazzi guardate qualche spettacolo per chi ovviamente mi segue su itc già l'aveva vista poi ci avrei anche un titino nel caso che perché non è che mi faccia impazzire campbell vi dico la verità ragazzi questa è una signora rosa ovviamente dopo giocherei con il 4 2 3 1 o il 4 1 2 1 2 2 mamma mia che squadretta ragazzi che ho quanto la amo mi piace tantissimo che squadretta che c'ha prima di fare bella figura ragazzi di vincere subito così ok cazzo c'è il sole infatti quel pezzo di stadio romperà un po il cazzo ragazzi bello 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 iniziamo benissimo ragazzi forza squadretta forza squadretta che cosa sono quei passettini ragazzi cosa sono quei passettini del cazzo che fate bello bello perché tirano così vabbè hanno saltato in due ragazzi a vuoto dai dio santo no messi no no ragazzi no a me la parata what the fuck no vabbè il super schemone vai sei bravo lì 1 a 1 eh eh quarantasettesimo gg fortissimo ma tu di raga magari la palla un po' meglio eh che cosa è successo ma guarda che cosa mi prende ma più che altro che cosa sbagliano i miei questo non trovo leva nessuno c'era il tempo signore c'è mandano meno male che non ha tirato tirava raga era un casino dammi varan porco due ma cos'è che palla impossibile da toglier via sta boccia dopo il mio gol impressionante ormai è inutile anche cazzarsi ragazzi perché cioè appena fai i gol cioè non devi essere conto devi esserci preoccupato guarda bravo grande no vabbè dai vabbè ragazzi dove sono le telecamere ah lì ok cioè scusa eh mamma mia che fatica vai oh il tuo dai meno male meno male non so neanche come sia entrata la boccia ragazzi però meno male un cazzo adesso me ne fa un altro guarda 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 che impossibile da togliere guarda che impossibile da togliere no che fallo è dai che fallo è fallo col pc dai dai contropiede bravissimi dai passata subito è finita pareggio di merda vabbè no c'è anche i supplementari rip rip un bot comunque ragazzi cpu non cpu lentezza lentezza accantè corre sempre come un drago con la parata non ci voglio credere porca bel hazard bellissimo hey then signori non scambiabile ho trovato nei in un pacco della premier bella chiudiamo sta partita ragazzi per favore gentilmente mi sono rotto il cazzo ma mi parla amichevole online a sofferenza così secondo tempo supplementare di un amichevole infinita ragazzi questo courtois di merda mi prende tutto madonna orda 3 prende tutto questo ragazzi lui qua c'ha donna rumma super sub raga ma su serio are you fucking serious? signori vi aspetto tutti alle 21 quest'oggi è stato un video un po' così sta partita è stata angosciante veramente pensate a un amichevole online che cosa si deve trasformare vi saluto ragazzi mi raccomando votate bene andate anche da Ron che adesso ha fatto uscire il video dove ci saranno i suoi picche e scegliete anche da lui il suo stropo facciamoci sentire ragazzi un bacione